La famosa tragedia di Eschilo, Sette contro Tebbe, rivisitata in Chiave Moderna, sarà in scena domani alle 19 al Teatro Eschilo di Gela. Saranno i corsisti della scuola di formazione dello stesso teatro a rappresentarla, diretti dalla regista Francesco Longo, che ha curato con genialità, particolarità e impegno questo saggio finale. È un'opera abbastanza impegnativa, scritta più di 2500 anni fa da Eschilo, il nostro concittadino Eschilo. Speriamo che i nostri alunni siano così bravi da poter dimostrare che quest'anno hanno studiato, hanno seguito bene le lezioni e soprattutto i loro insegnanti come Tuccio Musumeci, Emanuele Amuni, Romano Bernardi e Guiaiello sono stati all'altezza della situazione. La scuola sperimentale avviata ad ottobre ha visto la partecipazione di 14 corsisti che hanno potuto assistere alle lezioni di teoria e pratica valendosi dalla bravura di illustri nomi come Tuccio Musumeci, Romano Bernardi, Guiaiello, Emanuele Amuni e ancora del produttore teatrale Orazio Turrisi e dell'attrice Maria Carla Aldisio che ha curato la dizione. Personalmente io interpreterò la parte del re Eteocle, uno dei due fratelli figlio di Edipo che si è impossessato della città che doveva governare un anno ciascuno col fratello ma che poi non ha ricambiato il favore e Polinice che è il fratello quando si è visto spodestato in un certo senso ha pensato con delle alleanze particolari di attaccare con altri eserciti le sette porte di Tebbe. La storia si svolge in questa direzione, la tragedia sta proprio in questo conflitto fra fratelli che si trovano nemici. Grazie. Grazie.